Musica Le famiglie hanno qualcosa di molto molto particolare Come del resto voi italiani Non hanno proprio spina dorsale Signori e signori Sebastian e Sebastian Junior E poi Sebastian Padre ha ingresse con uno dei suoi esercizi in maggiore effetto Non vengono i priviti solo a guardar Non vengono i priviti solo a guardarmi Non vengono i priviti solo a guardarmi Sebastian Junior 30 anni Un'età molto bellissima Per un professionista Ma bisogna riconoscere che Perciò che riguarda agilità e sensibilità E come un bambino di 3 anni Sebastian Junior Sebastian Junior ha iniziato a lavorare all'età di 5 anni E oggi a 15 anni è già qui a Montecario Un vero fenomeno Non vengono i priviti solo a guardare all'età di 5 anni Non vengono i priviti solo a guardarmi Non vengono i priviti solo a guardarmi Il contorsionismo è una disciplina tipicamente orientale eppure i sedestri arrivano ad una repubblica del Sud America, la Guyana Ma il trucco c'è e si vede Infatti mi hanno spiegato che come molti loro connazionali hanno origine indiana Grazie Grazie Grazie